amici battista 70 phone oggi vi voglio presentare un gioco uno sparatutto che magari già molti di voi conosceranno visto che mi è stato consigliato sul blog sul blog e si chiama shadow gun ora partiamo dal resum vi evito tutta la parte iniziale tanto si tratta solo di andare a sbloccare due livelli ma non succede assolutamente niente partiamo da qui e andiamo a incontrare i cattivi diciamo adesso un attimo di tempo che sta ricaricando il tutto tanto parte iniziale si tratta solo di aprire due cancelli vedete anche molto ben fatto possiamo già prendere la mira sul primo ci conviene stare giù qui abbiamo il mirino ok uno l'abbiamo secchiato prepariamoci a seccare il secondo e tanto si deve alzare ma poi ok e questo è andato ora avanziamo a recuperare queste borsettine dovrebbe essere un'altra qua dietro muoviamoci intorno vediamo un po eccola lì proseguiamo qui abbiamo un altro pulsante avviciniamoci un attimo adesso non so quanti livelli ci siano comunque è abbastanza appassionante e poi vabbè andando avanti le difficoltà ovviamente aumentano mi sa che dobbiamo uscire da quest'altra parte abbiamo sempre la possibilità di ruotare intorno vedere tutto quello che ci circonda vedete sono vari oggetti da recuperare nel percorso ecco lì la ok eravamo posizionati un po male e ce n'è un altro qua qual è detto andiamo a boschiarci qui vediamo se ci arriva a tiro e ci sono stati colpiti ci conviene provare a fuggire allora proviamo a infilarci qua dietro e abbassiamoci allora ce l'abbiamo fatta ok giriamo andiamo a prenderci questa qua dietro dovrebbe essere un'altra dove c'era l'altro simpaticone e ora avanziamo ancora ok adesso il gioco proseguirà ancora ci saranno ancora altri livelli sicuramente sempre più difficili ecco ce n'è qua aumentano sempre di più iniziamo a prendere la mira tanto prima o poi ti devi alzare vale dei torte E' arduo questo livello Dai che attiro Ok uno è andato Sembrerebbe anche il secondo essere andato Ok vabbè adesso andrò avanti dopo per i cavoli miei perché mi piace Comunque avete visto un bel gioco Un bello sparatutto E man mano che si va avanti Dicevo aumentano le difficoltà Però è da provare Molto carino e rende davvero bene Con questo concluso Un saluto da Loris Aglias Battista 70 Per Battista 70 Phone Ciao